Vuoi scoprire come realizzare un bracciale come questo? Bene, allora seguimi dopo la sigla! Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video! Io sono Lia e realizzo gioielli dal 2010. Questo è il video più richiesto degli ultimi tempi. Mi è stato richiestissimo e quindi sono qui per mostrarvi con i materiali che mi sono stati inviati da BB Craft, che sono appunto queste basi per bracciali, che si possono anche rivestire con perline ovviamente. Anche se, come vi spiegherò più avanti nel video, io utilizzerò questa base in alluminio perché il risultato mi piace molto di più. I punzoni, che sono questi qui, io ho preso la stellina e il cuoricino, anche se utilizzerò anche gli altri punzoni che ho a disposizione per scrivere qualcosa. Ovviamente trovate anche questi su BB Craft. Poi, la famosa pinza che ci servirà per curvare il nostro bracciale, come vedete appunto, permette di curvare i metalli. E utilizzeremo anche questo blocchetto qui, in realtà è più consigliato il blocchetto quadrato piatto, che è molto più comodo. Ne ho anche uno più grande, ma è un po' scomodo, quindi cercherò di realizzare il bracciale con questo. E poi ci servirà del nastro carta, o carta gommata, che dir si voglia io ho questo, ma potete prendere qualsiasi tipologia di nastro carta. Poi ovviamente ci servirà un martello, io ho anche quello più nuovo, ma utilizzo questo qui perché mi consente di essere più precisa. Questo è un martello di riciclo che probabilmente avrà 20 anni, non lo so. Però, insomma, deve essere piatto e ci deve consentire l'incisione di precisione, quindi io lo preferisco così. Bene, direi che possiamo iniziare. La preferenza di questo bracciale qui, che è in alluminio, questo qui è in acciaio. E come vedete può presentare qualche macchia o qualche graffietto sulle superficie. Per la pulizia in realtà vi consiglio di operare con delle carte, oppure di operare con un buffer. Io mi trovo molto bene con questi buffer qui, vi lascerò il link dei materiali e anche del buffer, questo è strautilizzato all'interno della descrizione del video, che vi consente appunto di rimuovere i graffietti dalla superficie del bracciale. Quindi io mi trovo molto bene, li utilizzo tantissimo per lavorare con i metalli, penso che si possa vedere. Sono dei comunissimi buffer per unghie e quindi nulla, il primo passaggio che dobbiamo fare è quello di passarlo sulla superficie del bracciale da entrambi i lati per rendere la superficie più omogenea. Allora, penso che si riesca a notare oltre alle impronte delle mani c'è un po' di differenza tra quello sotto e quello sopra. Io l'ho pulito, ho pulito la base del bracciale prima con dell'alcol, semplice alcol, e poi ho scartavetrato la superficie con il buffer che vi ho fatto vedere. E il risultato diciamo che è sicuramente meglio di quello precedente. Come vedete questa è un'altra base. Allora, quindi ci siamo, questa è la base, come vedete è bella, omogenea, e adesso vado semplicemente a marcare la metà. La base è di 16 cm, quindi marchiamo a 8 cm. Utilizzerò un pennarello indelebile nero, quindi andiamo a vedere bene qui, dovrebbe essere la metà. Ok, adesso scegliamo la frase da incidere. Mi piacerebbe incidere una frase motivazionale, e cioè ricordati di brillare. È un po' lunghetta effettivamente come frase, però vediamo appunto come può venire. Allora, cercherò di spiegarvi il più velocemente possibile quali sono i passaggi che ho effettuato. Come vedete ho segnato la metà e ho posizionato del nastro carta sulla base per tenerla ferma. Al centro ho iniziato a incidere D, quindi volevo incidere la frase ricordati di brillare. E quindi ho iniziato con la D da un lato e la E dall'altro lato, anche se potete vedere che l'effetto delle lettere non si vede moltissimo sull'acciaio inox. E devo dire che posizionare il nastro carta in questo modo non mi ha permesso di incidere le lettere in maniera allineata. Infatti dopo ho cercato un altro escamotage. Allora il D centrale diciamo che potrebbe anche essere carino, però come vedrete nella seconda parte del video, in pratica brillare è venuto tutto storto. Ho cercato di segnare appunto le lettere sul nastro carta, ma ho utilizzato poi una bacchetta di legno per la parte di ricordati e devo dire che il risultato è stato molto più soddisfacente. Insomma qui ho proseguito con appunto le altre lettere, brillare quindi manca poco per vedere il risultato finale, che come vedrete non è ottimale, anzi le lettere sono venute tutte sfalsate, proprio perché mantenere i punzoni fermi a livello del nastro carta era veramente difficile, soprattutto sull'acciaio perché scivolavano tantissimo. Comunque anche per questa tipologia di lavori vi consiglio di prendere il blocchetto e il martello, che sono proprio adatti per l'incisione. Allora non si nota perfettamente com'è venuto, ma un po' si vede che comunque è tutto storto. E quindi adesso come vedete ho posizionato questa stecca di legno a metà e ho posizionato del nastro carta sopra marcando appunto le lettere. Devo dire che il risultato comunque almeno delle lettere allineate è stato migliore, ma purtroppo l'incisione su acciaio è veramente molto 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 difficile. Nonostante io appunto dessi più colpi, anzi proprio questo mi portava a sbagliare delle volte e quindi a non creare un'incisione pulita, ma composta da più livelli. Anche se devo dire che sono comunque soddisfatta del risultato della prima parte del bracciale. Il problema però è che la seconda era venuta malissimo. Ecco vedete qui si vede, ricordati che è comunque più dritta rispetto a brillare. Ecco qui si vede sicuramente meglio anche la seconda parte. E adesso vado a cercare di incidere la stellina e il cuoricino dall'altro lato, ma ahimè fallisco miseramente perché insomma questa stellina si viene abbastanza bene, dall'altro lato invece viene malissimo. E quindi insomma sto facendo vedere anche i miei errori perché così in questo modo sicuramente eviterete di farli. Qui sto cercando di tappare i buchi ma il risultato sarà disastroso alla fine e quindi opterò per una base in alluminio, anzi adesso passiamo al procedimento vero e proprio da seguire. Allora arrivati a questo punto sicuramente vi avrò spiegato un po' come sono andate le cose con il bracciale in acciaio che è questo qui. L'effetto sicuramente non è dei migliori, come vedete con l'alluminio l'effetto è sicuramente meglio, la lettera viene incisa più in profondità e quindi anche successivamente il risultato è completamente diverso. Qui ho anche passato il pennarello indelebile ma come vedete l'effetto è totalmente diverso. Qui ho fatto diverse prove anche con qualcosa che facesse stare fermo il punzone ma è molto difficile riuscire a mantenerlo diciamo nella stessa posizione sull'acciaio perché è molto scivoloso e più resistente rispetto all'alluminio che a un metallo morbido. Quindi ho deciso di spiegarvi come ho intenzione di fare un bracciale simile a questo. Ovviamente lo farò con un'altra scritta ma non utilizzerò più questa scritta qui. Anche se questo sistema qui che ho utilizzato e cioè quello del bastoncino di legno diciamo come guida per i punzoni è risultato essere un'ottima soluzione. In questo bracciale qui invece andrò a scrivere appunto amati quindi sempre il tema amore anche perché ho bisogno di qualcosa di breve dopo il diciamo questo esperimento non andato proprio a buon fine. Utilizzeremo ovviamente anche la stellina e il cuoricino di BB craft anche per vedere l'effetto finale. Qui risultano in realtà più grandi di quando si vanno a incidere perché come vedete non sono molto grandi poi qui è molto molto difficile tenerli fermi e le lettere che utilizzerò sono da 3 mm quindi ho dovuto fare degli esperimenti per conto mio io avevo realizzato questo ma non ho pensato appunto che i punzoni potessero comunque scendere in profondità in realtà così non è stato quindi utilizzeremo l'alluminio che sicuramente è molto meglio per questa tipologia di bracciali. Allora questo qui come vedete è una protezione sul retro per evitare di farlo graffiare ma il sistema buffer che vi ho spiegato all'inizio del video sicuramente è un ottimo sistema per pulire appunto il bracciale. Adesso io vado a marcare anche qui la metà del bracciale questo qui è 15 cm quindi 7,5 sì 7,5 questa è la metà. Ok. Allora a questo punto io prelevo lo scotch che avevo già preparato che è questo qui prendo del nastro carta e appunto scrivo sul nastro carta la parola amati distanziando le lettere con questi trattini amati allora in questo caso invece di sovrapporlo ovviamente cercherò questa è la metà cercherò di fare in questo modo qui di modo che la guida appunto cioè il nastro possa farci da guida per ovviamente i punzioni quindi vado a fare in questo modo qui vado anche a cercare di bloccare sempre con il nastro carta il nostro set sul blocchetto allora io farò prima ovviamente la parte centrale e poi farò le due diciamo le due decorazioni laterali quindi prelevo la lettera A e la vado a appoggiare in questo caso qui sposto un po' di cose cerco di tenerlo fermo e vado con dei colpi secchi ok la A sembra essere venuta bene adesso procediamo con la M ok ci siamo riprendiamo la A ok ce l'ho fatta poi prendo la T la parte più difficile è proprio quella di far mantenere fermi i punzoni perché quando si martella si spostano quindi bisogna tenerli ben saldi ok anche questa va bene dopodiché sposto un po' il tutto per marcare la I fatto anche questo ora non mi resta che fare un adesso togliamo insomma tutta l'impalcatura che abbiamo creato e faccio in questo modo qui faccio un cuoricino a sinistra e un cuoricino a destra quindi questo è il cuoricino che andremo a fare ok vedo che comunque anche qui non è molto profondo però insomma il risultato non è male facciamone un altro qui ecco qui questo è il risultato finalmente una scritta ben impressa devo dire che sull'alluminio è molto più semplice adesso andiamo a marcare le scritte con un pennarello indelebile e lo faccio restare un pochino dopodiché possiamo procedere sia con il buffer a rimuovere il pennarello indelebile sia con un batuffolo di ovatta in superficie per evitare appunto che si tolga poi tutto il colore anche all'interno della lettera quindi io prendo il buffer tolgo il blocchetto vediamo il risultato devo dire che il risultato finale è veramente bellissimo adesso cosa adesso cosa dobbiamo fare l'ultima cosa che dobbiamo fare è quella di piegare il nostro bracciale per piegare il bracciale praticamente dobbiamo partire dalla punta e andiamo piano piano in questo modo come vedete la pinza fa tutto piano piano iniziate a piegare il tutto e vi farò il bracciale e vi farò vedere che alla fine il bracciale sarà completamente tondo e potrete modellarlo molto molto meglio senza piegare il bracciale senza pieghe e senza nessun tipo di problema vedete com'è semplice devo dire che anche l'acciaio è molto semplice da modellare ecco qui quindi questo è fatto ripasso all'indietro anche per una seconda passata ok molto molto carino devo dire mi piace tanto dietro c'è ancora la protezione vi faccio vedere anche come è semplice curvare l'acciaio con questa pinza vedete riesce a curvare anche l'acciaio ovviamente ci vuole un po' più di forza questo qui ormai lo butterò oppure lo utilizzerò lo rivestirò per creare qualcosa per me vediamo mi dispiace sempre buttare qualcosa o comunque ma comunque fa parte del mestiere ecco qui vedete questi bracciali qui in acciaio sono molto più grandi rispetto ai bracciali in alluminio e in realtà si potrebbe fare anche qualcosa di carino mischiandoli ma comunque questo qui devo dire che mi piace moltissimo sicuramente se dovessi scegliere di acquistare delle basi in alluminio o delle basi in acciaio preferirei sempre quelle in alluminio e quelle in acciaio magari sono più adatte per il laser che purtroppo io non ho mi piacerebbe tantissimo averlo ma appunto credo che questo qui insomma sia molto meglio e come vedete la profondità di della scritta è totalmente diversa quindi anche l'effetto finale risulta molto più bello in sull'alluminio rispetto all'acciaio con questo qui adesso vedrò insomma cosa cosa fare perché ho anche altre basi magari sicuramente potrò decidere di rivestirli con la tecnica embroidery e fare dei bracciali oppure fare qualcosa con la resina non lo so vedremo o con le paste polimeriche e quindi nulla io spero di esservi stata utile con questo video vi ringrazio per aver assistito ai miei esperimenti questa pinza risulta comunque molto molto valida e anche i punzoni mi piacciono moltissimo potete trovare anche le lettere su BB craft questi sono da 6 mm le lettere sono da 3 mm quelle che ho io mi sembra comunque vi lascio il link dei materiali qui sotto al video vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo presto con un nuovo tutorial magari di perline un bacione e alla prossima ciao